Dove si va? È una domanda che da sempre interpella la nostra cultura e alla radice la nostra esistenza. La sensazione dell'uomo e della donna di oggi è quella di essere stranieri in questa terra, senza una casa, condannate ad un'angosciosa ricerca di un futuro, mentre aspiriamo con tutte le forze a conservare, gestire, programmare e amministrare. Ci interroghiamo quale sia la patria della nostra identità. Dove si va? E la via? C'è una via per questa patria? Ci sono sentieri per questa meta? Ci sono strade in questo deserto? Spesso ci viene da dire con l'Apostolo Tommaso, se non conosciamo la meta, come possiamo conoscere la via? Eppure, eppure dentro la nostra condizione di nomadi e di pellegrini risuona forte e fiduciosa una preghiera che dà speranza, che svela la meta e apre la via per raggiungerla. Io, Cristo, sono la via. Non siamo gettati nel mondo, non siamo condannati all'esistenza, non siamo abbandonati al caso e non esistiamo per la morte. No, siamo invece un progetto di Dio che è il disegno di amore. Ci sono molti posti nella casa del Padre e Cristo ne ha preparato uno per ognuno di noi, irrepetibile, esclusivo e riservato, con il nostro nome già scritto con l'inchiostro del suo sangue. Perché dove è Lui siamo anche noi. Mistero di amore. E, perché dove è Lui sia un progetto di Dio che si ha diventato un progetto.